Benvenuti e benvenute a tutti i colleghi e le colleghe alle tantissime autorità presenti, siete davvero tante, quindi non vi cito uno a uno, ma soprattutto benvenuti e benvenute a tutti gli amici e le amiche del Politecnico di Torino che hanno voluto condividere con noi questa giornata di festa, perché oggi deve essere una giornata di festa. L'Ateneo ha bisogno di raccontarsi e di essere raccontato, abbiamo davvero bisogno, spesso ci raccontiamo poco. Questa è una bella, bella occasione di racconto dell'Ateneo. Per me il racconto più bello è quello che una comunità fa parlando delle persone, delle proprie persone e soprattutto di quei protagonisti che hanno lasciato una traccia, un'impronta indelebile nel percorso di crescita del nostro Ateneo e una traccia di cui ancora percepiamo in modo chiaro l'eredità. Tante cose sono state fatte, tante cose la nostra comunità prende in eredità e tante cose si prospetta di fare. Anche perché in quel racconto fatto poi di persone, di uomini e donne del nostro Ateneo, ognuno di noi trova qualche frammento di pensiero e ricordo che ricorda che qui ha vissuto momenti importanti della propria vita. Allora, ieri sera, devo dire pensando ad oggi, anch'io ho aperto un cassetto dei ricordi e così ho iniziato a frugare tra i miei libri e appunti di scuola e ho clamorosamente, devo dire, ritrovato il mio libretto degli esami. Sono passati un po' di anni e quindi devo mettere gli occhiali anch'io, perché. E in questo libretto degli esami, il giorno 20 giugno del 1994, quindi 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, sostenevo il mio esame di elettrotecnica e macchine elettriche. Sul mio libretto, a firma del professor Profumo. L'avevo superato anche bene, il corso mi è piaciuto molto, ringrazio quindi il professore per quello che mi ha trasferito. Ricordo sempre che mi diceva e mi ha sempre detto che il dono più grande di un professore è quello di donare la propria conoscenza agli altri, è proprio così. E quindi oggi quel racconto che noi vedremo via via sbobinarsi da questa pellicola, per me, inizia da quel giorno. Quindi benvenuti a questo giorno di festa. e invito il collega e sindaco, il professor Stefano Lorusso, per i suoi saluti. Ben trovate a tutte e tutti, un ben trovato al nostro amico Francesco Profumo, al collega, e aggiungo a uno dei professori e dei torinesi che ha dato di più, non solo a questo Ateneo, come ricordava il Rettore Corniati, ma io credo davvero alla città. Anch'io parto da un piccolo aneddoto personale. Ricordo quando conobbi il professor Profumo nella gestione del Senato Accademico del Politecnico. Era dotato di una virtù, che io chiamo virtù e non un difetto, che poi ho ritrovato raramente nelle successive esperienze che personalmente ho vissuto, ma che provo ad applicare. La virtù della puntualità. Io ricordo che lui convocava i senati accademici, me lo ricordo che convocava alle ore 14, quindi la gente arrivava dopo pranzo, e aveva questa virtù, perché in sala del Consiglio, 14.00 e un secondo, attaccava il microfono e iniziava a parlare con la gente ancora in piedi, che si affannava a sedersi intorno ai tavoli, poi parlava con questo tono monocorde volutamente, che quindi tutti partivano aspettandosi pezzi che mancavano. Credo davvero che dietro questo dettaglio, che però dettaglio non è, si nasconda una caratteristica del professor Profumo e dell'uomo Francesco Profumo, che è stata quella di essere uomo di visione, di essere stato un grande rettore del Politenico di Torino e di aver trasmesso questo nel quadro di quelle che sono molto sabaude, anche se lui è savonese, che sono le regole istituzionali, che è una seconda caratteristica, insieme a quelle della visione, che ne hanno caratterizzato tutti i percorsi che ha svolto, da professore, da rettore, da ministro, da presidente di IREN. Io una volta ho visto il tuo curriculum e ho detto mannaggia, non sono tanti i torinesi che possono, e credo che stasera emergerà, vantare le esperienze che tu hai vissuto, in ultimo quella alla Compagnia di San Paolo. E penso che questo sia un elemento importante, come esempio per i giovani, perché è un'altra delle, e della terza cosa che mi preme sottolineare, tu hai sempre voluto fare, è costruire una squadra intorno a te, costruire una squadra e puntare sui giovani, costruire un gruppo dirigente, che io credo sia un grande merito che tu hai in qualche modo avuto, in un contesto in cui non sempre tutti coloro che hanno posizioni e ruoli di elevata rilevanza hanno chiaro in testa, che è la squadra che dà la forza al Capitano. Ed è chiaro che dentro questa cornice gran parte delle operazioni, tra virgolette, che tu hai fatto anche su investimenti in persone che hai voluto fare qui in Ateneo, con un forte ricambio generazionale, quando diventasti rettore, poi via via nelle diverse, nelle diversi ruoli che hai adottato, penso che sia un elemento a tuo merito. Ma l'elemento più importante che voglio sottolineare è la visione che nel ruolo in cui io ti ho conosciuto prima, che era quello del rettore polidenico, che poi hai trasmesso anche negli altri diversi ruoli e negli ultimi anni in cui abbiamo lavorato insieme e da quando sono stato eletto sindaco, è la capacità di trasformare il Politecnico di Torino da un Ateneo a un agente di sviluppo. O perlomeno di far diventare il Politecnico di Torino un qualcosa che fosse oltre la Università, la Facoltà di Ingegneria e di Architettura, ma fosse un vero e proprio laboratorio di sviluppo dell'intera città. Questo ragionamento, un ragionamento che deve anche il rettore Zic, che fu il primo, come dire, che introdusse questo tipo di ragionamento, ma sicuramente ha avuto nella gestione del rettorato di Francesco Profumo l'elemento qualificante che poi tutti coloro che sono succeduti hanno ereditato, come diceva il professor Corgnati, e hanno cercato di portare avanti nelle specificità dei singoli. Quindi io credo di interpretare non solo il mio pensiero personale, ma il sentimento davvero della città, che è un sentimento di gratitudine al professor Francesco Profumo per quello che ha rappresentato nello sviluppo del Politecnico di Torino in anni complicati, per quello che ha rappresentato per davvero centinaia di studenti che ha avuto, di persone che hanno lavorato con lui, un esempio di correttezza, di professionalità e soprattutto di visione e come ricordava, come ricorda sempre un altro amico che è il professor Bonpar, con il motto del piano piano, che è una cosa che lui dice sempre quando le sfide si fanno particolarmente difficili, la sua classica battuta è piano piano, che in termini concettuali e anche questi molto sabaudi vuol dire che le cose giustamente si costruiscono un pezzo per volta e questa capacità di avere una strategia, un punto di traiettoria, un arrivo e capire quali sono i passi da fare, mi sembra davvero sia stato un ulteriore elemento che credo chi ha avuto la fortuna e il privilegio di poter lavorare con te in questi anni porta a casa. Quindi sono contento che il nostro Ateneo ti riconosca questo tributo e davvero auguro che il futuro della tua lunga carriera continui ad essere così prodigo di visione, di buoni sentimenti e di buoni esempi, soprattutto per i più giovani. Grazie al Sindaco, grazie Stefano. Tra l'altro, un piccolo inciso, il corso che citavo vedeva proprio come professore il professor Profumo e come assistente esercitatore il professor Tenconi, che vedete lì, attuale direttore del Dipartimento di Energia, quindi devo dire che 30 anni fa non mi sarei mai aspettato di essere qui oggi a fare questa presentazione, quindi questo è il bello del fatto. Chiamo adesso un'altra amica a portare i saluti in rappresentanza della Regione, Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza di Regione Piemonte. Grazie Claudia. Io vi ringrazio e porto il saluto del Presidente Alberto Cirio, che non ha potuto essere presente, ma sia io che l'assessore Gianluca Bignale, che qui con me ci tenevamo particolarmente e devo dire che abbiamo fatto anche un po' di competizione per portare il saluto, ma soprattutto per ringraziare un grande amico della Regione Piemonte e del Piemonte, Francesco Profumo. Abbiamo avuto entrambi la possibilità e la grande occasione di lavorare con te per tanti anni, anche con cappelli diversi e in funzioni diverse. Io da assessora alla formazione al lavoro ho avuto in Francesco veramente un amico e soprattutto un grande suggeritore di prospettive e di strategie. Abbiamo lavorato insieme su tante iniziative e lo ha sempre fatto senza mai prevaricare su quelli che erano in quel momento i ruoli. La capacità di inventarsi, di avere una visione di quello che poteva essere non soltanto il Politecnico, ma il nostro territorio sono stati un valore aggiunto pazzesco per noi, perché comunque Francesco hai sempre lavorato con un occhio e con un'attenzione su questo territorio, perché la sfida di far crescere il Piemonte, la provincia di Torino e Torino è sempre stata nel cor di Francesco e ancora oggi con i ruoli che ha e con l'importanza che hanno questi ruoli ci sei sempre per noi. Io mi permetto una piccolissima disgressione, scusatemi, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e tu hai avuto la fortuna di avere Anna, che è veramente una grande donna e penso che ti abbia accompagnato in un percorso importante. Mi faceva piacere da donna dirlo, perché io ho avuto il piacere di confrontarmi anche con Anna tante volte e questo senso della famiglia, il fatto che quando tuo marito telefonava la prima cosa che mi chiedeva quando avevo i bimbi piccoli è come stanno i ragazzi e un'attenzione che si ha non solo nei ragazzi ma in quei ragazzi che hanno transitato in questi 30 anni nel Politecnico e io credo che questo sia veramente consegnare al futuro di Torino, della regione Piemonte, una grande eredità e speriamo di poter contare su di te ancora con l'entusiasmo che hai dimostrato fino ad oggi e sono certa che dopo questo riconoscimento sarà ancora più grande perché la sfida sarà quella di ritrovarci fra trent'anni per darti un altro ruolo importante, quindi grazie davvero Francesco della regione Piemonte, grazie ancora. Bene, adesso è ora di passare al momento centrale di questa serata insieme e quindi invito gli attori protagonisti di questa serata insieme il mio professore Francesco Profumo e il direttore Malaguti qui a prendere posto per questo momento insieme di racconto di una storia che ha segnato il Politecnico di Torino, la città, la regione e devo dire il sistema paese. Buona chiacchierata. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui. È difficile aggiungere cose dopo quello che è stato detto. Confesso che prima di cominciare questo dialogo ho chiesto al professore se nel corso della sua vita avesse avuto mai un giorno in cui si era svegliato dicendosi stamattina non so cosa fare e la risposta è stata no. Adesso capiremo perché. In realtà poi spero che da qui alla fine della serata scopriremo che voto avevi dato al rettore perché ci ha lasciato così sospesi. Noi vorremmo sapere insomma perché non so se è stato un eccesso che avete di discrezione o in realtà un po' di imbarazzo quindi tu non lo ricorderai immagino. Comunque abbiamo strutturato questo incontro diciamo come un grande racconto della vita del professore che comincia con quello che il professore è oggi in realtà. Il professore oltre a essere presidente di Easy Bank è anche presidente della Fondazione Quadrivio, è membro dell'European Innovation Council della Commissione Europea, è presidente di USP della School of Business Torino-Parigi ed è anche presidente di Uni Italia. Quindi diciamo che le occupazioni non ti mancano da qui in avanti. Ma stabilito quello che sei oggi, io tra l'altro vedo già alle nostre spalle ci sono delle foto che ci aiuteranno nel racconto, forse vale la pena cominciare dall'inizio come in tutte le storie o in tutte le favole perché la tua storia somiglia anche abbastanza a una favola. credo che come tutti sapete voi, io sono nato a Savona, sono un savonese doc e ho trascorso i primi miei 18-19 anni della mia vita proprio in quella città che io amo in modo particolare. Ho vissuto in una famiglia di grandi principi, mio papà e mia mamma mi hanno sempre insegnato che l'educazione era la priorità numero uno e quindi ho vissuto la mia vita in questo ambito. Ma nello stesso tempo allora la città era una città relativamente piccola della provincia italiana ed era però una città piena di energie. Io mi ricordo che in quegli anni sono state costruite molte scuole a Savona. In una di queste io sono andato, si chiamava Scuola Colombo, era una scuola elementare in centro di fronte alla cattedrale e quindi questo mi ha aiutato a crescere nel modo forse che un po' faceva parte del mio DNA, lasciatemi dire. E ci sono alcune cose che mi hanno segnato particolarmente. La prima ve la racconto brevemente. Questa scuola era vicino ai giardini pubblici dove venivano i giostrai e i circensi e ogni anno avevamo due bambini che venivano per qualche settimana a scuola con noi. Ebbene, questo era veramente un qualche cosa che andava oltre qualsiasi cosa perché loro ci raccontavano delle cose meravigliose, gli animali, il modo di essere, il modo di rapportare, il loro coraggio e noi eravamo un po' così. E quindi questo mi ha segnato particolarmente. La seconda cosa che mi ha segnato molto è che in quegli anni il non ancora presidente Pertini, che era un savonese, che aveva uno studio di avvocato in Corsa Italia, che non era lontano dalla mia scuola, veniva a scuola. Ma non solo nella mia scuola, in tutte. Veniva e passava qualche ora con i bambini. Ci raccontava delle cose che ancora oggi ricordo, il tema del confinio, il tema della resistenza, le sue battaglie. Lui non era uno proprio un uomo semplice, era un uomo... e quindi ci ha insegnato veramente a che cosa poteva diventare il futuro e come ci si poteva rapportare. Da ultimo il mio professore delle medie, quando ero un pochettino più grande, si chiamava Draperi ed era il vice sindaco della città di Savoni. E lui ogni tanto ci portava in Consiglio Comunale, perché pensava, e io concordo con lui, che questo fosse il modo corretto per farci crescere, per farci rapportare con le istituzioni. Quindi la mia vita nasce proprio attraverso le istituzioni. Poi nel 1972 io ho finito il mio liceo... Ma sei già corso troppo avanti. Intanto non so se hanno fatto vedere tutte le foto. intanto tu bambino, vabbè, questo... Questa è la foto. Qui dovresti spiegare quale sei tu lì in mezzo, in realtà, perché tu ci sei lì. Sì, io ci sono lì e sono... Qui c'è anche un altro mio compagno di scuola, che si chiama Mariano Rosasco, che adesso poi ci faccio vedere. Che sta alzando il braccio là, con orgoglio. Eccolo là, eccolo là, che ha alzato la mano. Io sono lì in mezzo e ho quella maglia bianca nella seconda fila. Questo è il 1972. Il nostro liceo si chiamava Orazio Grassi. E questa fotografia è stata fatta poco prima dell'esame di maturità. Poi fatto l'esame di maturità, il 90% dei miei compagni, dei savonesi, andavano a studiare a Genova. E io ho deciso di venire a Torino. Allora, due cose. Intanto, naturalmente, hai preso 60 sessantesimi. E' stato anche abbastanza noioso in questa tua perfezione di cammino, no? E quindi dopo non ti chiederò più i voti che hai preso all'università, perché erano tutti uguali. Poi, va detto che anche la colonna sonora l'hai scelta tu. La prima canzone che hai scelto è Qui arriva il sole. Io non so se questo, come dire, a proposito di grander. No, anche perché il secondo blocco su cui passiamo è introdotto da un'altra canzone che hai scelto tu, che forse è un po' meno nota al nostro uditorio, ma comunque un titolo che dopo svegliamo significativo. Sì. Voglio aggiungere una cosa, che è una di quelle... vuoi dire tu come si intitolava questa canzone? E dillo tu, forza. Si chiama perfetta, perfetto. Perfetto. Di essere scena, quindi diciamo che insomma, da qui arriva al sole la perfezione. E questo introduceva... La perfezione mi sembra un po' eccessiva. Però è un'ambizione perlomeno. Però volevo dirvi ancora una cosa. Quando io ho fatto la maturità, noi avevamo due scritti e poi due orali che venivano uno scelto e uno veniva assegnato. E io ho fatto, come me, la parte orale con fisica e filosofia. Credo che questa cosa poi me la siano portato un po' dietro. Poi ad un certo punto vi racconterò anche che quando ho fatto il preside ho pensato che fosse opportuno che nelle nostre scuole, che in queste aule ci fossero anche dei crediti che non fossero solo tecnico-scientifici, ma che fossero umanistici. E un po' questa cosa mi era stata assegnata. Da questo fatto che io all'esame di maturità avevo portato due materie che tra di loro sembravano quasi in competizione, in antagonismo, ma in realtà facevano un po' parte invece di questa mia idea della rotondità. Le persone devono essere rotonde, devono essere probabilmente dei bravi tecnici, ma se non sono, se non hanno quel livello di umanità, di relazione... Ecco, la grande accelerazione tecnologica che c'è adesso, la flessibilità poi è uno degli elementi più importanti. Quindi la rotondità è necessaria, no, professore? Sì, io credo di sì. Effettivamente poi è molto cambiato il mondo. Vi dico anche il motivo per cui io pensai questa cosa. Era che quando io ho fatto... sono venuto al Politec, noi avevamo una maggioranza importante di studenti che venivano dal liceo e che quindi avevano avuto l'opportunità di affrontare anche tematiche che non erano esattamente quelli che poi avrebbero studiato. Nello stesso tempo buona parte degli ingegneri facevano il progettista per tutta la vita, quindi avevano questo tipo. Nel frattempo le cose stavano cambiando e io avevo quest'idea che gli ingegneri sarebbero sempre più diventati persone di relazione, quindi avrebbero dovuto avere argomenti che andavano oltre il contenuto tecnico. E dall'altra parte il paese era cambiato, fortunatamente avevamo anche studenti che venivano da altre scuole e questi non avevano avuto questa opportunità. Per cui, lo dico con sincerità, la mia è stata una scelta pensando che le nuove generazioni avevano bisogno di avere qualche cosa in più, che la scuola tradizionale forse non gli avrebbe dato. Comunque, tu arrivi a Torino in che anno? Io arrivo a Torino nel 1972, vengo al collegio in Audi, in Corso Lione, al 44, e lì incomincia questa mia relazione con questa città che allora io vedevo con una certa visione. La maggior parte dei miei compagni, soprattutto di quelli che stavano in collegio con me, venivano dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria. Io ero uno fortunato perché al sabato e alla domenica andavo a casa. Chi era fortunato andava due volte, per Natale e per Pasqua. La maggior parte era un po' più complicata per loro. E avevano una voglia, e avevano uno stimolo. Era il vero ascensore sociale questo. E questo era evidentissimo. Io dico la verità, che la città lo aveva capito. Perché noi spesso eravamo anche invitati dai nostri compagni, dalle famiglie, in realtà dai nostri compagni torinesi. E io mi ricordo queste papà e mamme che ci interrogavano, loro, i miei compagni che ne dà il suo ancora di più. Ed erano uno stimolo. Questo stimolo aveva avuto un risultato. Io quando mi sono laureato nel luglio del 77, noi ci siamo laureati in undici nella prima sessione. E credo che questo fatto sia anche parzialmente dovuto a questa comunità che avevamo creato e che ci ha consentito di crescere insieme. Senti, abbiamo dovuto dirlo prima, ma i tuoi genitori che cosa si aspettavano da te, proprio rapidamente, quando sei arrivato? Allora, io sono sempre stato un bravo studente. Sono sempre stato un bravo studente, ma con molti interessi anche diversi. Credo che i miei genitori avessero una grande fiducia in quelle mie scelte. Non ho mai fatto colpi di... Però chi mi ha segnato forse di più era un mio zio. Un mio zio che si chiamava Zio Carlin, che mi portava la domenica a fare un giro in città, a Savona, piccola, sotto i portici un po'. E lui mi parlava sempre di meccanica, mi parlava di cose elettriche. E ogni tanto mi diceva, ma lo fai l'ingegnere? Beh, io dicevo, ma è ancora lunga la strada, io facevo la terza media, queste cose. In realtà questa cosa mi ha segnato molto. Poi mio po' e mia mamma mi hanno spinto, nel senso che loro pensavano che sarebbe stato quello che io vorrei forse potuto fare abbastanza bene, l'ingegnere. Non c'è dubbio. Senti, nel 1977 ti laurei con che voto? Con 110 lode. Con 110 lode. Dopodiché, che cosa succede? Parti per fare una cosa che non succede? Intanto io mi laureo a luglio e poi vado a militare a gennaio del 78, quindi ho qualche mese. Proprio in quest'aula, che non era così, era un'aula dove c'erano dei banconi con la formica sopraverde, lunghi da una parte all'altra. Qui c'è anche Michele Tartaglia, che era il professore di elettrotecnica per gli ingegneri civili. E io nel primo semestre di quell'anno accademico, che era il 77-78, facevo quello che si chiamava il coadiutore, che era il giovane che faceva le esercitazioni. L'ho incontrato adesso Michele, mi dice, sai, gli studenti erano 299, quindi riempivano bene. Ce ne mancava uno perché ci sdoppiassero il corso. E io, giovane, berber, così, senza barba, mi trovai a dover interagire con quelli che più che miei allievi erano miei coetane. E dico la verità che ho imparato molto, anche da questo, del rapportarmi con gli studenti. Senti, hai fatto l'alpino, dopodiché non hai cominciato subito a fare il professore, bensì ti sei buttato nel mondo del lavoro, hai fatto un'esperienza professionale. Sì, perché io pensavo che la scuola, certamente mi sarebbe piaciuto fare la carriera universitaria, ma che nello stesso tempo sarebbe stato opportuno che io mi sporcassi un po' le mani. Sono andato a lavorare a Lansaldo, Lansaldo che a Genova allora lavoravo alla ricerca e sviluppo. E dico la verità, mi sono molto divertito, anche perché mi occupavo di alcuni dei contratti di licenza con la General Electric, quindi anche una cosa interessante. Già il settore era quello che poi è stato il settore in cui mi sono specializzato, quindi l'elettronica di potenza. Allora, per esempio, si pensava al rodoppio del Sakoi, che è questa relazione tra la Sardegna, la Corsica e l'Italia per il trasferimento in corrente continua di energia. E quello era un prodotto molto importante, sviluppato da Genova Electric, che Lansaldo aveva acquisito. Ecco, in quegli anni io ho imparato molto, dico la verità. Allora le aziende, quelle che chiamiamo di Stato, erano aziende che insegnavano, investivano. Quando io sono stato assunto, siamo assunti in un centinaio, e noi avevamo un amministratore delegato che si chiamava Simonetti, e lui ci diceva sempre, lui ci incontrava abbastanza spesso, loro dedicavano tanto tempo. Dicevo, guardate, non tutti diventeranno amministratori delegati. Però noi abbiamo un ruolo, quello di formare persone che poi andranno anche a lavorare per aziende che lavoreranno poi per noi, o comunque che lavoreranno per questo Paese. E quindi lo facevano con uno spirito che era quello corretto, quello che pensavano che il Paese avesse bisogno di investimento. L'investimento più importante era sulla formazione dei giovani, e anche sulla formazione tecnica, non era di questo tipo. Senti, in dieci secondi questo non era previsto, ma era un'Italia anche molto complicata quella di quegli anni. In realtà tu vivevi in questo ambiente protetto, in qualche modo fuori, era un Paese che esplodeva. Questo si sentiva all'interno dell'università, o in realtà voi siete riusciti a mantenere un vostro, come dire, un ambiente protetto? Allora, in quegli anni, gli anni più difficili per me sono stati quando l'ho lavorato a Ansaldo, perché erano anni complicati. In realtà il Politecnico non ha mai sofferto molto da questo punto di vista, c'erano discussioni, c'erano certamente anche momenti in cui ci si confrontava. Però da questo punto di vista il Politecnico è sempre stato un luogo in cui le discussioni sono avvenute in una forma di correttezza. Ciascuno aveva le proprie idee, però non è che ci fossero degli scontri. Io non ricordo le situazioni particolarmente difficili. Diverso credo fosse stato nel 68, dove io non c'ero, però nel racconto dei miei colleghi più grandi la situazione era un po' più complicata. Dopodiché nella tua storia ci sono tre telefonate che cambiano il percorso che avevi scelto. La prima arriva in questo momento del racconto, che è il 1984. Chi è che ti fa questa prima telefonata e come cambia la tua vita? Devo rubarvi un mezzo minuto. Io in estate vado a Spottorno, che è un paesino vicino a Savona. E nello stesso paesino il professore con cui avevo fatto la tesi, Paolo Ferraris, aveva una casa. E quindi ogni tanto ci incontravamo sul bagnasciuga e lui mi chiedeva di che cosa stavo facendo. Era interessato, insomma. Lui era un uomo anche di azienda, oltre che un professore anche di grande capacità. E quindi io gli raccontavo che cosa faceva l'ansaldo. Lui era contento perché imparava. Poi in quell'estate lì, era all'inizio del mese di luglio, lo incontro, mi chiede come al solito cosa stavo facendo e poi mi dice, sai, ci saranno i primi concorsi da ricercatore. Prima non c'erano i posti da ricercatore, c'erano quelli da assistente, un assistente ordinario. E quindi me la racconto un po' e mi dice, ma non faresti tu domanda? E io gli dissi, guarda, guardi, noi abitiamo a Savona, avevamo una bimba piccola che è costante, la mamma di Lavinia, Anna insegnava sulla riviera, insomma, avevamo una bella casa. Poi a maggio ci trasferivamo a Spottorno, sono 11 chilometri, insomma, quindi stavamo bene. E quindi dico, ma guardi, per noi sarebbe un po' difficile. E comunque, e la finiamo lì. Dopo due settimane lo rincontro e lui mi dice, ah, guarda che è uscito il bando, dura 45 giorni, me la racconta di nuovo un po', e io non me la sento di essere troppo duro e dico, sì, sì, faccio domanda, la ringrazio molto. Poi io dico, finisce tutto lì, figurati, c'era un posto, chissà quanti candidati. Poi, un lunedì, mi ricordo ancora che era un lunedì, io non ho quasi mai fatto l'influenza, non so per quale motivo, ed ero invece ammalato e stavo a casa a Savona. Costanza era piccola, perché lei è dell'83, e io sento suonare il telefono, non c'erano i telefonini, c'era niente, tenete presente, Anna naturalmente era a insegnare, risponde a questo telefono, ed è Paolo Ferraris. Paolo Ferraris mi dice, ah, non pensavo di trovarti, pensavo di trovare Anna, e dico, no, no, guardi che Anna insegna, io sono un po' a questa condizione. E lui mi dice, senti, stiamo per chiudere la commissione per la selezione di queste cose, e tu sei uno tra quelli che potrebbero vincere. E mi dice, ma naturalmente, sai come è fatto il concorso? E dico, no, dice, un posto, un vincitore. Quindi non c'era la graduatoria degli idonei, come si dice. E allora mi dice un po' queste cose, e mi dice, ma tu, se fossi il vincitore, verresti? E dico, ma quanto tempo ho? Dice, ma la durata del mangiare un panino, un'oretta, più o meno, insomma. E quindi ero un bel pasticcio. E quindi mi dice, ma mi lasci un po' pensare. Allora, telefono a mio papà, che è un signore di buon senso, e mi dice, fai come vuoi, però se non ci vai, l'università ti rimarrà nel cuore, sai. Poi telefono a mio suocero, a mia suocera in realtà, perché mio suocero faceva il chirurgo e pensavo di non trovarlo, e loro sapevano che avevano fatto questa domanda, e gli dico, senti, sta succedendo questa cosa e non so che cosa fare. E gli dice, ah, ma guarda, c'è papà qua, parla con lui invece che parlare con me. E quindi parlo con lui e mi dice le stesse parole. E quindi a quel punto lì mi sono sentito quasi rafforzato da questo fatto, riparlo con il professor Ferraes, dico, vengo. E quindi questa è la prima telefonata, è il mio grande cambio della vita, perché altrimenti sarei stato un savonese, avrei vissuto a Savona, avrei fatto una vita anche molto diversa. Quindi lì cambia la vita, ti interrompo perché voi non lo vedete, ma noi abbiamo un orologio lì terrificante che siamo fuori completamente. Perché poi tu arrivi qui e in realtà cominci anche un'esperienza internazionale immediata, nel senso che prendi e vai negli Stati Uniti, e vai nel Wisconsin. Quanto ha pesato questa idea di formarsi anche attraverso le esperienze all'estero? Tantissimo, tantissimo perché io sono andato a lavorare per un centro in cui c'erano giovani più o meno della mia età che venivano da 35 paesi. E c'erano due professori, uno che veniva dall'accademia, uno che veniva dall'azienda che aveva costruito questa cosa, e si chiamava WEMPEC, che era Wisconsin Power Electronics System Consortium. E quindi questa cosa mi ha molto segnato, mi ha molto segnato anche nel sistema di relazione con le aziende. Poi tutto quello che ho fatto un po' dopo nasce da quella mia esperienza, oltre al fatto che in quel periodo ho lavorato molto, facevo praticamente solo ricerca e insegnavo un corso, quindi non è che fossi... Quindi la mia vita è stata profondamente segnata dalla mia avventura americana. Cioè nonostante torni indietro, perché? Che succede? Beh, io sono stato quasi quattro anni, è nato nostro figlio Giulio, e quindi a quel punto lì dovevamo decidere, cioè se tornare indietro oppure fermarci per sempre. E io, insieme a Anna, abbiamo pensato che la nostra famiglia, le nostre tradizioni erano qualche cosa che non avremmo potuto abbandonare. E anche qui, adesso dovremmo dirle, in frettissima c'è l'avventura nel senato accademico, e poi diventi professore associato. Allora, al senato accademico intanto vi devo dire una cosa, io quando sono arrivato qua non sapevo niente di università, mi chiama Zik e mi dice adesso ti devi un po' anche impegnare, e quindi candidati per il senato accademico, come rappresentante dei ricercatori. E vengo a letto, e quindi vado in senato, e chi è il mio compagno di banco? Il presidente Grospietro, che ho visto oggi. Lui era il rappresentante del CNR, e proprio lui mi ha insegnato tutto, nel senso che io sapevo quasi niente, e quindi lì ho incominciato a imparare. Poi era una fase bellissima, perché c'era questo senato costituente, era partita l'autonomia, era una fase estremamente positiva. E il professor Zik è stato veramente il mio maestro, quello che mi ha insegnato che cosa vuol dire vivere all'interno dell'università con questo spirito che noi abbiamo. Dopodiché tu fai un passaggio invece, allontanandoti da Torino. A quel punto ti sentivi già più torinese o savonese? Hai mai fatto uno scambio di cittadinanza interna dentro te stesso? Come ti senti di qua, di là, Ligure, Piemontese, Savonese, Torinese? Credo di aver mantenuto il mio giusto equilibrio. Il lavoro a Torino e la vacanza in Liguria, quindi mi sembra che sia un buon equilibrio. Un buon equilibrio. Sì, quando ho vinto da professore ordinario, non c'erano posti a Torino e quindi le facoltà facevano le chiamate. E c'erano tre posti, quattro posti in realtà, due a Cagliari, uno a Varia e una a Bologna. Io, quando ho saputo di essere uno dei quattro vincitori, sono andato a casa e ho detto, guarda, andiamo a Cagliari, affittiamo una billetta, i bambini erano piccoli, stavamo bene. E poi invece, un po' di litigate, come succede spesso all'interno dell'Accademia, mi chiamano a Bologna. E quindi io vado a Bologna, dove è una università meravigliosa, ci sono delle cose, è la vera università, dico la verità, tutte le sere. Io insegnavo lunedì e il venerdì a Torino. Partivo il martedì, cioè martedì, mercoledì e giovedì. Allora non c'era l'altra velocità, facevo Torino, Asti, Alessandria, e ci volevano tre ore e quaranta andare qui. Insomma, era anche un po' pratico, però bellissimo, perché alla sera, ogni volta, ogni sera c'era qualche cosa da fare. Andai a ascoltare Prodi, andai a ascoltare Andrea Atta, c'era una cosa meravigliosa. E quindi io mi ero anche un po' innamorato di star lì. D'altra parte, non è che mi piacesse proprio che la famiglia stesse qua. E quindi con Anna siamo andati a cercare una casa e l'avevamo osservata con certa attenzione, non è che avessimo comprato niente, a Porta Saragozza, che tu conosci. Molto bene. Proprio vicino a Viale della Rivembranza, una casa meravigliosa. E qui però succede che arriva la famosa seconda telefonata che cambia la vita. Rodolfo Zic mi telefona e mi dice, sono andata a Roma, mi hanno dato un posto d'ordinario per trasferimento. Uno, se la racconto, cade tutti perché mi fanno morire. Dice, tu sei il primo della lista, se tu vieni è per te. E io gli faccio la solita domanda. Quanto tempo, la durata di questa telefonata. Gli ho detto di sì, questa volta senza chiedere a consigliere a mio papà, a mia suocera. Per la felicità di tua moglie. Sì, sì, però eravamo ormai entrati nell'idea anche che andare a Bologna non ci sarebbe dispiaciuto. Senti, e poi per chiudere questo blocco, quanto sei messo a diventare preside di facoltà? Beh, io sono tornato nel 97, e poi ho fatto preside dal 2003-2005. Ho dovuto imparare, perché non è che adesso fossi uno imparato. e lì sono diventato preside, diciamo, con uno stacco rispetto alle generazioni precedenti. I presidi precedenti erano stati i miei professori. E lì è stata una bella avventura. È lì che abbiamo costruito questo gruppetto di giovani che poi sono stati tutti i miei vice-presidi lì, e poi i miei vice-rettori, poi alcuni sono diventati rettori. Quindi questa continuità c'è stata e credo che sia una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, nel senso di aver costruito una comunità che ha contribuito allo sviluppo di questo Ateneo. Lui ha già messo le mani sul pianoforte perché stiamo passando al blocco successivo. E anche qui hai scelto una canzone che in realtà, come dire, definisce lo spirito con cui hai affrontato la tua avventura torinese, diciamo. Ecco, lui l'ha suonata come se fosse Mozart, ma è la vita loca che in realtà aveva un ritmo più elegante e più adatto alla sala, il modo in cui lui l'ha suonata. Tra l'altro grazie, insomma, per questo tuo. E questo serve a introdurre questa vita loca che tu hai vissuto qui a Torino negli anni che vanno dal 2005 al 2011, gli anni in cui sostanzialmente fai il rettore. Intanto come si diventa rettore di università come questa? Su che tipo di progetto? Cioè che cosa avevi in mente quando hai cominciato? Eh beh, la cosa non è così semplice. Tanto c'erano nove candidati quando io mi sono candidato, quindi non era proprio semplicissima. E poi c'è una fase di, diciamo, preparazione per le elezioni, in cui ciascun candidato presenta il suo programma. Ci sono molti momenti pubblici con tutti i nostri colleghi, in cui tu ti presenti, ti fanno domande. Io mi ero immaginato, dico la verità, solo immaginato, perché non avevo mai fatto una cosa di quel genere. Un modello di università che corrispondesse un po' a quello che il paese si domandava. Cioè una università che fosse più vicina al mondo delle imprese, un'università che fosse più internazionale, un'università che desse più opportunità ai giovani. Cioè un po' queste erano le cose che mi ero immaginato. E noi, come Politecnico, avevamo un progetto nel cassetto. Un progetto nel cassetto che era quello del raddoppio. Per darvi un'idea, quando io ero matricola, noi eravamo 1.500 matricole. In quegli anni avevamo circa 5.000 matricole, più o meno. I numeri erano questi. E gli spazi erano quelli che avevamo prima, quindi erano compressi tutta questa cosa. Il raddoppio aveva che cosa alla base di dire, va bene, qui abbiamo circa 120.000 metri quadri questi, e sono aule, laboratori, spazi per studenti, fatte in questi termini. L'idea del raddoppio era rifare altri 120.000 metri quadri nell'area dietro Corso Castelfidardo, che era un'area che c'era stata concessa dal comune con un diritto perpetuo, quindi una cosa meravigliosa, e che il professor Zick nel corso degli anni aveva messo insieme tutti i pezzetti, nel senso che lui era bravissimo a trovare prima di tutto le idee che erano, ma poi a trovare anche i soldi. I soldi di primo finanziamento, qualcuno di voi se lo ricorda, erano 70 milioni, che oggi ridiamo, ma per noi erano tanti soldi questa cosa qua. E comunque io mi ero convinto che un raddoppio to cure non avrebbe dato quella risposta che noi ci aspettavamo. E quindi parlai di una cittadella politecnica, una cittadella in cui convivessero che cosa? Di attività istituzionali, quindi la formazione, la ricerca, ma poi le aziende. E io in modo un po' enfatico dicevo, ah sì, gli studenti al mattino vanno in aula, al pomeriggio vanno in azienda. È una scuola come questo. Io non pensavo che questo dovesse essere il modello generalizzato dell'università. Per un'università come questa poteva essere uno dei modelli. E quindi io mi innamorai di questa cosa. e raccontai questa cosa ai miei colleghi e forse li convinsi, perché poi alla fine... No, non so che la cosa più straordinaria è che l'hai fatto poi, in verità, e l'hai fatto in un tempo che per i tempi medi di questo paese è quasi inimmaginabile, nel senso che nel paese delle infrastrutture che non esistono, quello che tu hai fatto qui, in quanto tempo? Cioè quanto ci hai messo? Allora, il grosso l'abbiamo fatto in 18 mesi. Però c'è stata una serie di eventi anche, diciamo, positivi, nel senso che intanto era il periodo delle Olimpiadi e quindi questo un po' ha aiutato, perché c'era una spinta verso un qualche cosa per la città che... Poi questo fatto di General Motors, che io incontro Roger Johnson, che era l'amministratore delegato, gli racconto di questa mia idea di fare questa operazione, e questo mi dice ah sì, noi stiamo cercando di fare un centro per la progettazione dei diesel per tutto il mondo, di nuova generazione, perché loro non erano capaci, loro utilizzavano dei diesel marini e quando avevano fatto l'accordo con Fiat lo avevano fatto per acquisire questi tipi di competenze. E quindi da questa cosa qua, poi ancora una volta una telefonata, perché vado da lui a pianezza, dopo che lui mi presenta queste cose, mi dice, vieni nel mio ufficio, e mi dice, ma senti, ma le cose che mi hai detto, ma sono, si fanno davvero o sì? E dico, io credo che sia la modalità di fare nuova università, di creare condizioni di sviluppo del paese, un'università che crea posti di lavoro, che fa... dice, ma qui ci vuole un cempio per fare un'operazione di questa genere. E dico, hai ragione. E dice, ce l'abbiamo qua? Dico, sì che ce l'abbiamo. E chi è? Sergio Chiamparino. Sergio Chiamparino era nostro sindaco, era un po' prima delle Olimpiadi. Allora prendo il cellulare, faccio il numero, naturalmente lì ci vuole di un po' di fortuna, e il sindaco mi risponde e gli racconto in tre minuti questo fatto di che cosa voleva fare Roger Jones e che io gli avevo detto che ci proviamo. E Sergio mi dice, guarda, venite domani mattina alle otto e mezza. Capite che questa cosa qua, un pischello come me, che gli racconta queste cose e telefona al sindaco, il sindaco gli dice questa cosa e quindi poi io ero molto preoccupato, sono andato dal sindaco, gli ho spiegato che cos'è, e gli avevo detto, senti, derita a me, portati Tom D'Alessandri e Mario Viano, uno che è capace a mettere le cose a posto e Mario perché c'era un problema urbanistico, qui era complesso, questo avevamo tutta quest'area qua, ma era solo per attività che fossero di formazione, di ricerca, non per attività di tipo commerciale, quindi pensate un po'. E però l'abbiamo fatto e l'abbiamo consegnato anche in anticipo rispetto a quello che era necessario, facemmo un'operazione indubbiamente straordinaria. E questo per spiegare l'importanza delle idee, l'importanza delle idee sostenute dagli uomini e quindi dei sistemi e quindi la collaborazione alla quale tu hai aggiunto appunto il peso internazionale di cui si parlava prima, che in realtà viene aiutato da un'altra scelta che fai, no? di portare qua dei premi Nobel. Perché decidi di portare qui dei premi Nobel? Prima di passare ai premi Nobel, che è una cosa importante, in tutta questa operazione c'è stato un uomo che mi ha dato una mano, indescrivibile, senza di lui mai più. Era il nostro Rupp, era il nostro collega che si chiamava Franco Ossola, bravissimo, uno che diceva sempre di no, ma che aveva ragione a dire di no, e che non si faceva mai tirare la giacca. Io ho imparato da queste persone che bisogna avere questa forza e lui è certamente l'uomo che più ha fatto, ha fatto più di me. Io sono stato forse capace a fare l'architetto, ma è stato più bravo di me perché è lui che... E quindi, insomma, intanto questa cosa qua che andava avanti, creava, abbiamo spostato gli uffici per gli studenti, e abbiamo cominciato a fare tutte le scuole. E poi io mi rendevo conto che questa università doveva diventare un'università internazionale, doveva diventare un'università capace di attrarre studenti. E allora lì c'era il problema della lingua e allora incominciamo a fare un po' di corsi in inglese e poi ci rendemmo conto che dovevamo fare dei corsi completi. C'è uno dei miei amici che si chiama Enrico Macì, che era professore di informatica e il primo corso che facevo in inglese era un corso di informatica di base. Lui era uno dei miei vicerettori, bravissimo, e gli dico, Enrico, senti, qui bisogna che facciamo questa operazione. La facciamo, e gli dico che cosa volevo fare, fare questo corso in inglese, lo avviamo e ci avevamo solo 30 studenti. Il primo anno gli dice, questa volta hai sbagliato. Dico, no, non ho sbagliato. Qui i piemontesi, i torinesi sono sempre un po' lenti, vedrai che l'anno prossimo. L'anno dopo avevamo più di 200 studenti. Quello è quello che ci ha aiutato a fare questo corso. Quanti studenti cinesi avevi quando... Quando io sono arrivato, ci avevamo 27 studenti, prevalentemente di aree ben definite. Quando ho finito erano circa 3.000. Ecco. E questo che differenza fa? Nel senso, come ti aiuta anche questo sul G8 dell'università, su tutta una serie di iniziative, Ban Ki-moon? In quel momento il Politecnico era l'università che aprì pista e ci era riconosciuto da tutti. Nel senso che il modello di università, la nostra capacità di attrazione, la capacità di chiamare docenti, le modalità con cui la gestivamo, era veramente un esempio. E questo naturalmente ci ha aiutato molto da questo punto di vista. Io poi avevo quest'idea che l'università è università. Io da questo punto di vista sono abbastanza deciso, e quindi alla base ci deve essere un'università di ricerca. Io non ci credo nelle università che fanno solo didattica, quella è solo un'altra cosa. Le università devono fare ricerca e poi i risultati della ricerca devono essere trasferiti nella didattica agli studenti. E allora, per dargli questa caratterizzazione, io ho pensato che fosse opportuno che qui portassi dei premi Nobel. Dei premi Nobel che vessero questo segnale anche per gli studenti, e questa cosa fatta soprattutto dall'inaugurazione dell'anno accademico, che è un momento veramente importante. e Rita Levi di Montalcino, io me la ricordo lì, era a 30 chili, ha parlato per mezz'ora davanti a un microfono, senza una cosa meravigliosa, che credo che tutti voi chi c'era allora lo ricordano. E poi Croto, Croto era uno dei più grandi scienziati nel settore della chimica, e poi Eiger si chiamava, era il terzo. E quindi, nei anni, in corrispondenza dell'inaugurazione dell'anno accademico, facevamo questa cosa, e davamo un segnale fortissimo agli studenti. Nobel e lauree onoris causa. Questi erano tutti i premi Nobel, e gli davamo la laurea onoris causa. Quindi, eravamo un po' furbi anche, la giocavamo bene. Però, momento, questa è una scuola che aveva bisogno anche di legarsi alle aziende. E allora ce la siamo giocata fino a un fondo, perché abbiamo dato, questa volta, solo laurea onoris causa, perché noi il terreno 9 non ce l'avevano, a Marchionne e a Giugiaro. Quindi, abbiamo fatto questo, lasciatemi dire, mescolamento tra scienza, aziende, facendo un purpurì di cose che credo sia la ricetta vincente. Senti, quindi, per chiudere questo blocco, che Politecnico hai trovato e che Politecnico hai lasciato? Beh, io ho trovato un Politecnico di grande qualità, perché era una scuola, ma molto tradizionale. Io, quando sono arrivato qua, tanto per darvi un'idea, ma non per colpa del Politecnico, perché era pre-autonomia, il 99% delle risorse erano risorse dello Stato targate. Cioè, arrivavano qua e c'erano, non so, quante milioni di lire per fare una certa cosa. Noi, con l'autonomia, se si è capaci, si può decidere di costruire un'università diversa. E quello che noi siamo stati capaci di fare è stato questo. Grazie a Rodolfo Zic, perché è lui che ci ha insegnato. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ho nominato le presidenti del CNR e vado a Roma e dico la verità che sarebbe stata una cosa che mi sarebbe piaciuta, perché io penso che gli enti di ricerca siano un grandissimo valore, un po' impolverati, e il fatto che sono impolverati è perché la legge Ruberti sull'autonomia che entrò come autonomia delle università e degli enti di ricerca uscì solo con l'autonomia delle università. E gli enti di ricerca sono rimasti un po' ministeriali. E quindi io mi ero immaginato che uno come me avrebbe potuto aiutare il CNR e gli altri enti di ricerca. Il mio pallino era quello di fare una legge sull'autonomia anche per gli enti di ricerca. E quindi vado lì. Vado lì, dico la verità che mi trovo bene, nel senso che sono stato poco, però sono entrato subito in sintonia con loro, adesso non so se c'è qualcuno di loro qua, ma gli avevo dato un po' di carica. Insomma, loro credevano che io avrei potuto aiutare questa cosa. Però noi facciamo il consiglio di amministrazione il mercoledì. E il mercoledì del 16 di novembre del 2011 andiamo a fare, facciamo il consiglio, poi andiamo a cena e poi vado a casa. E io non guardo quasi mai la televisione perché poi soprattutto la sera sono abbastanza stanto. Però lì il presidente Berlusconi si era dimesso. C'era l'incarico a Monti e quindi accendo la televisione. Però sulla televisione ti devi fermare perché siamo già al blocco successivo. Ok, allora devo tornare indietro. No, ma sei perfetto. Lo dicevo per lui, perché giustamente... Allora, arrivo lì perché sto cercando di guadagnare un po' di tempo. Allora, ma ascolti, ti devi fermare perché tocca il pianoforte. Allora, grazie. Allora, grazie. Perché poi nella musica c'è una logica, no? Certo. Quindi questa canzone si chiama Qualcuno come te, è una canzone di Adele molto famosa. E c'era, qualcuno sta cercando appunto qualcuno come te, mentre tu sonnecchiavi a casa tua. È il giorno della terza telefonata di questa storia che definisce un cambiamento di rotta. Perché quella sera lì mi sono veramente addormentato, non è che fossi sveglio. E quindi avevo messo il telefono in ricarica. Mi sveglio intorno a mezzanotte, vado in bagno e passo dal telefono. E dal telefono blincava, sai quando fa il brincare? Cioè, mi dico, cosa succede? La prima preoccupazione era mia mamma che era sola a Savona e Anna con i bambini che stavano qua. Dico, qui è successo qualcosa perché chi è che vuoi che mi... E allora dico, vabbè, mi faccio un po' di coraggio e guardo. E c'erano decine di telefonati e poi ho scoperto anche di messaggi, la maggior parte dei quali venivano da un numero che io non conoscevo, che era 069766, che è il numero della batteria di Palazzo Chici. Allora, io non sapevo esattamente cosa fosse, però c'era anche il numero di Anna, dico, telefono Anna. Telefono Anna e lei mi dice, ah, ti ho cercato, dov'eri? Dico, sono andato a cena, poi sono arrivato, mi sono addormentato. Dice, guarda, dice che ti cercano. Ti cercano, ma c'era un sacco di rumore, di pasticcio, e dicono che era da Palazzo Chici. E mi hanno dato un numero, che è questo, ti ama. Allora, io chiamo questo numero e dico, sono Francesco Profumo, dico, ah, il professore, il professor Monti la cerca. E dico, la ringrazio. Mi passano Monti, che era molto più sveglio di quanto fossi io, perché ero molto addormentato, e mi dice, scusami, l'ora è molto tardi. E dico, no, no, non ti preoccupare. E gli ho spiegato che avevo fatto il consiglio e poi mi era addormentato. Dice, sai, ti sto cercando perché sto per chiudere la lista dei ministri. E ho pensato a te come ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dice, scusami, è molto tardi adesso, però io avevo cominciato a cercarti alle sette. La batteria, invece che cercare te, ha cercato Alessandro Profumo. E Alessandro non ha risposto subito, quindi ha risposto verso una certa ora. Io gli ho fatto il bel discorsino, mi dice lui, molto più, c'era un po' più di tempo, quindi con un po' più di tempo rispetto a quello che sto facendo con te, e a un certo punto Alessandro mi dice, guarda, hai sbagliato persona, io non sono in grado di fare un'operazione così molto complicata, non me ne sono mai occupato. e lui, e Monti poi mi dice quando, mi chiede allora se ero disponibile, e io dico, guarda che faccio il presidente del CNR, e dice, non ti preoccupare, poi la risolviamo. E poi mi dice, sai, quando ero lì, volevo quasi dirgli che nella lista dei ministri c'era anche Corrado Passera, ma faccia bene che non glielo ho detto, perché altrimenti avrei fatto un incidente di tipo... Violentismo. Senti, ma cosa ti legava Monti? Allora, Monti, avevo fatto il rettore insieme, quindi avevo... Ma poi io ho fatto il presidente del G8 delle università, qua a Torino l'avevamo organizzato, e avevo invitato Mario per l'ospice iniziale, quindi avevo questa mia sintonia. e poi, come dicevo, il Politecnico era osservato, perché indubbiamente aveva accelerato un processo che poi sarebbe diventato un po' più comune nel nostro paese, ma che allora non lo era ancora. E quindi c'era... Io gli ho chiesto a Monti, gli ho chiesto, ma perché hai pensato a me? Dice, perché tu indubbiamente in questi anni hai fatto delle cose interessanti dal punto di vista dell'università. Io gli ho detto, io però dal punto di vista della scuola non so niente, ho una moglie che insegna, tre figli, va bene. E allora, ancora una volta, credo che è un po' il mio buonsenso, dissi, va bene, qui bisogna che mi cerchi una persona che sia capace di aiutarmi. E allora ho cercato un po' di parlare con la gente e mi hanno indicato una signora che si chiama Lucrezia Stellacci, che era stata il provveditore, allora si chiamava, direttore dell'ufficio scolastico regionale, prima in Emilia e poi in Puglia, poi era stata al ministero. E questa signora, lei mi ha aiutato in tutto e per tutto, perché altrimenti avrei fatto solo qualche pasticcio. e io ascoltavo. Senti, ma dal punto di vista personale che effetto fa sentirsi dire vieni a fare il ministro? Perché voglio dire, nella vita che può succedere tante cose, ma diciamo il ministro è una di quelle che capitano più raramente. Dal punto di vista dell'orgoglio personale, come si affronta una richiesta di questo genere? Allora, io non mi spavento mai di nulla, quindi partiamo da questo principio. Però sono estremamente cosciente delle mie competenze, delle mie forze, delle mie debolezze. E quindi, in quel caso lì, dico la verità, la mia paura più grande non era tanto il fatto di quello che avrei dovuto fare come ministro, perché io avevo molte relazioni con i ministeri, nel senso che io facevo il rettore anche a Roma, nel senso che aspettassi. Quello che mi spaventava molto era l'ambiente romano, era la burocrazia. E dico la verità, che invece dal punto di vista umano è stata un'esperienza estremamente positiva. Ve ne racconto una sola per tutte. Io sono uno che mi alzo presto al mattino e che vado a lavorare presto al mattino, perché io credo che veramente le prime ore hanno loro in bocca, e quindi il ministero andava alle sette. Tenete presente che i ministeri, prima delle dieci, vedo l'Aus che dice, ma qui che dice... E quindi io li ho stravolti tutti questi qua, perché gli dicevo, per cui gli spiegavano, guardate, noi ci abbiamo di buono dalle sette alle nove, perché poi incomincia, e quindi tutte queste cose ho cambiato anche un po'. Poi sto ridendo, ridendo, poi me li ero fatti tutti amici, non è che avessi avuto dei problemi. Però gli ho dato una spinta, ancora adesso, quando vado al ministero, mi dicono ministro. Dico, ma ministro non so più no, lei è sempre il nostro ministro. Questo è magnifico. Senti, adesso c'è una grande diffidenza nei confronti dei tecnici, Monti, te stesse, eccetera. Ti sembra una diffidenza giustificata da un punto di vista, appunto, delle necessità paese. Adesso andiamo verso una riforma del premierato, sempre che mai si faccia, il che non è detto, francamente, che ha tra gli obiettivi quelli di impedire la costruzione di governi come quello di cui tu hai fatto parte. Allora, io vi confesso una cosa, che non sono certo che avrei accettato di fare ministro in un governo politico, perché non credo di essere la persona adatta, nel senso che io ritengo, con tutti i miei errori, però, di avere un certo buon senso, una certa esperienza, e di essere capace di fare dei passi in avanti e anche passi indietro. Ma dico la verità, che non sono disponibile ad accettare che qualcuno mi comandi un po' troppo. Almeno nelle cose che so fare, nelle cose che non so fare accetto qualsiasi cosa, quindi non credo di essere disponibile a farlo. Dico la verità, forse avrei potuto fare anche il sindaco di Torino, ma non credo che sarei stato un bravo sindaco, perché mi mancano alcune componenti e poi avevo avuto la sensazione che non mi avrebbero lasciato essere abbastanza libero. E quindi, dissi di no, ma lo dissi sinceramente, perché io credo che bisogna che le persone abbiano questo tipo di libertà, se naturalmente poi hanno le caratteristiche. Allora, io mi ricordo bene, noi non avevamo nessuna maggioranza. Su qualsiasi tipo di norma, quando andavamo in Parlamento, noi c'eravamo divisi, il Parlamento, non per partito, ma per area di provenienza. quindi io conoscevo i piemontesi e i liguri e andavo a fare un po' di moral suasion indipendentemente che fossero di una parte piuttosto che dall'altra. Noi abbiamo lavorato così e c'era all'interno del, diciamo, di questo governo una comunità di persone che avevano un loro mestiere e quindi sarebbero tornate a fare il loro mestiere. Era in dubbio questo, non erano persone che avevano bisogno di, che avevano alcuni ideali nei quali credevamo e avevamo una sola persona, uno unico, che era il ministro Giarda, che aveva fatto un'esperienza come sottosegretario, ma non eletto, era stato esterno, e che era il nostro ministro per i rapporti col Parlamento, perché noi eravamo un po' veramente disabituati, diciamo. Eh sì, disabituati a avere queste cose, però dico la verità che nei primi mesi qualsiasi cosa avessimo detto, anzi, se avessimo avuto ancora un po' più di coraggio, avremmo fatto ancora di più. Poi arrivati a maggio, tenete presente che comunque la scadenza elettorale era nel mese di febbraio del 2013, le cose hanno cominciato a inguaiarsi, perché i partiti, giustamente, la mia non è una posizione, avevano poi altri obiettivi rispetto a loro, e quindi le cose sono diventate molto più difficili. Quindi abbiamo avuto due fasi, una fase, diciamo, di progettualità, anche di emergenza, diciamo, abbiamo avuto anche delle emergenze molto complicate, però è stata un'esperienza anche umana, molto, molto interessante. Naturalmente, io credo che il dopo, il giudizio del dopo, non sia stato un giudizio equilibrato. Lo vediamo anche adesso che molte cose di quel governo sono ancora oggetti di discussione, più alle pensioni. Io credo che alcune delle cose che abbiamo fatto sono cose che dovevano essere fatte, e sarebbero state difficili farle fare ad un governo che ha bisogno comunque del consenso. Lo dico con un certo dispiacere, perché io credo che, almeno, quello che io ho sempre cercato di fare non era basato sul consenso. Bisogna dire dei no, bisogna essere capaci a argomentarli, però io credo che la politica in questo momento più che mai abbia bisogno di crescere a questo punto di vista. Bisogna che torniamo ad avere maggiore competenza, bisogna essere più capaci a progettare. Qui abbiamo bisogno di progettare il futuro di questo Paese e anche il futuro dell'Università. E passiamo al capitolo successivo a questo punto, perché il governo, come avete capito, finisce, e quindi anche la tua esperienza da ministro. E quindi, vieni via con me di Paolo Conte. Chi è che ti porta via questa volta? Questa volta mi porta via diciamo l'idea di fare un'esperienza diversa. Nel senso, io quando sono tornato al Politecnico, quando ho finito il mio incarico ministeriale, sono tornato al Politecnico e quindi mi sono reinstallato al Politecnico. Ma dopo un paio di mesi sono stato designato come presidente di IREN. E IREN sta nel cuore dei torinesi, non solo, perché è una di quelle aziende che ha un'anima. Ha un'anima che purtroppo però era un'anima un po' divisa per tre, nel senso che c'era un'anima diciamo torinese, una genovese e un'anima emiliana. E questo non funziona. Nel senso che loro facevano uno, uno, uno e bisogna fare delle scelte, bisogna fare delle priorità. E quindi io credo mi sono divertito perché ho fatto abbastanza bene il presidente. Sono riuscito a fare per esempio una società delle reti insieme. Ho cercato di far passare questo messaggio che questa è una grande azienda ma perché diventi veramente grande non si può pensare che uno pensa con la testa torinese e l'altro con la testa genovese. Qui bisogna togliersi il proprio cappello. Quindi è stato anche molto interessante dal punto di vista dei rapporti umani. Nel senso che per esempio in Emilia ci sono tantissimi comuni che sono azionisti e io sono andato comune per comune quando abbiamo fatto la modifica di statuto. Quindi anche questa cosa qua mi è piaciuta molto dal punto di vista proprio umano. Io ancora adesso quando vado in Emilia o vado in Liguria o qua incontro persone che mi ricordano e faccio volentieri. Io credo che siano grandi aziende le ex municipalizzate. Non c'è dubbio questo mi fa venire in mente un'altra cosa che anche questa non abbiamo concorrato ma in un momento in cui si discute tanto di autonomia tu giustamente dici bisognerebbe fare in modo che non ci fossero tanti cappelli diversi. Questa riforma dell'autonomia in realtà a parte su tutto una serie di norme che già adesso non hanno bisogno di prevede che ciascuna regione in realtà penso al commercio estero si muova per conto proprio. È una cosa che serve al paese o che in realtà complica la vita del paese? Lo complica non voglio entrare su un discorso politico però io dico tecnicamente una delle ragioni del nostro debito è il non ottimale funzionamento delle regioni bisogna che ce lo diciamo questa cosa qua quindi se andiamo su questa strada qua probabilmente la situazione è peggiore diverso sarebbe se noi avessimo delle macro regioni degli agglomerati più grandi sui quali si può fare del lavoro poi ci sono alcune funzioni che non possono essere regionali io capisco che ciascuno deve avere la sua presenza però ci sono alcune che devono essere del paese è il paese persino il paese troppo piccolo lo vediamo quanto è complicato in questo momento quindi dobbiamo trovare secondo me una modalità diversa di fare queste operazioni naturalmente ci sono alcune cose che se hanno una maggiore vicinanza certamente possono funzionare meglio perché hanno un contatto più diretto hanno un feedback più diretto però ci sono le grandi funzioni che io non credo che possano essere troppo parcellizzate Magneto questo ci aiuta per dire che comunque questo non nega l'importanza dei territori del lavoro sui territori e questo ci introduce al prossimo capitolo alla prossima esperienza della tua vita a parte che io sono incuriosito moltissimo dalla tua playlist perché hai trovato le canzoni veramente straordinarie queste davidghietta per me io l'ho scoperto da lei ma non avevo idea però è titanio in realtà la forza in realtà e qui arriviamo alla Compagnia di San Paolo diciamo che è uno dei pilastri fondativi di questo territorio è un'esperienza diciamo straordinaria perché è un'esperienza larga di unione con le persone e con chi vive qua che otto anni sono stati quelli alla Compagnia di San Paolo allora intanto voglio dirvi una cosa io sono stato un beneficiario della Compagnia di San Paolo da preside e da rettore e quindi la conoscevo un po' nella Compagnia di San Paolo la conoscevo un po' e il primo contatto da rettore fu il seguente forse non l'ho raccontata tante volte io guardai il bilancio del Politecnico perché era la prima cosa che io in genere faccio quando incomincio ad occuparmi di un qualche cosa e non trovai nessuna posta della Compagnia di San Paolo dico la verità rimasi un po' sorpreso di questa cosa io sono amico da tanti anni da sempre direi di Piero Gastaldo e quindi telefono a Piero e dico Piero io sono un ingegnere cosa vuoi non sono capace a leggere i bilanci però non ho trovato alcuna posta della Compagnia nel bilancio del Politecnico e lui mi disse sai quando al telefono uno non sa esattamente gli si impasta un po' la bocca che succede allora boffonchia qualcosa e mi dice ma quando vuoi ci vediamo e io dico sì sì anche al più presto vuoi che venga io da te o vieni tu da me no no vengo e allora venne da me era un po' in difficoltà Piero e mi dice sai in realtà noi abbiamo molti rapporti con i professori del Politecnico con i ricercatori e abbiamo circa 300 grant che diamo a ciascuno di loro ma non passano attraverso la compagnia non passano attraverso scusate il bilancio del Politecnico perché sono contratti diciamo che funzionava bene anche io e io gli dissi così col sorriso guarda ci conosciamo abbastanza bene siamo due persone istituzionali allora il rapporto tra Francesco Profumo e Piero Gastaldo nel loro ruolo per Politecnico e per la compagnia va benissimo sono due ruoli istituzionali va altrettanto bene se andiamo al bar e ci rapportiamo non va bene però se io mi rapporto con la compagnia e sono il rettore del Politecnico o viceversa e dice ma cosa vuoi fare e dico ma io penso che sia necessario cambiare quella modalità nel senso di trovare un modo istituzionale per far funzionare questo rapporto meraviglioso tra queste due istituzioni e mi dice e che cosa vuol dire questo? dico ma io penso che sarebbe bene che ci fosse un rapporto pluriennale e che avesse una certa diciamo rotondità e allora lui mi dice ma fammi quasi dico adesso vuoi troppo sei appena arrivato mi hai detto una cosa io ho provato a capire che cosa come era la situazione adesso lasciami qualche giorno pensare e quindi dico ci troviamo tra un paio di giorni allora era l'anno 2005 quando io avevo cominciato a fare il rettore le università avevano una grossa crisi di liquidità perché il fondo di funzionamento ordinario non era così male però c'era un eccesso di 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 spesa per il personale per cui era praticamente le università erano intorno al 90% delle spese di personale sul bilancio e quindi non c'era più niente poi poi gli scaldamenti un po' di pulizie quindi non c'era niente e allora rincontro Piero e gli dico senti questa è la situazione quindi se vogliamo trovare una modalità per far funzionare questa cosa dobbiamo partire da qua e allora io penso che sarebbe opportuno avere un accordo triennale di un certo tipo e che consentisse di fare tre grandi progetti e che dessero la possibilità di far crescere il Politecnico nella direzione e che e allora gli dissi ma che cosa cosa so allora gli dissi tre cose il primo cosa un IRP quindi una possibilità di gestire un sistema che non era più quello come un ministero il secondo era quello della digitalizzazione dei processi per gli studenti avveniva ancora come quando io ero studente che quando andavi a prendere lo statino immancavamente pioveva e quindi faceva delle ore di codali e la terza cosa e dissi mi piacerebbe avviare questo percorso sull'internazionalizzazione e di lì è nato questa mia conoscenza quando sono arrivato alla compagnia di San Paolo allora avevo capito e mi sono immaginato che la compagnia potesse diventare un agente di sviluppo io non amo i progetti piccoli io sono uno che mi piace vedere le cose un po' più in grande e quindi la compagnia in questi otto anni che sono stati per me una cosa molto formativa sono venuto a contatto con mondi molto diversi dai miei molto anche sono stato molto toccato non so il moi è stata una cosa meravigliosa molti dei grandi progetti che abbiamo fatto dal punto di vista sociale sono stati molto interessanti però io credo e credo che questo segnale sia evidente sia stato evidente che si può gestire un ente filantropico moderno come questo con delle regole che sono regole che vanno oltre il fatto del del dono cioè bisogna aiutare le persone a capire il valore di quello che gli stai dando e questo è stato credo il grande sforzo che abbiamo fatto insieme al fatto che abbiamo lavorato sempre con leve più elevate quella è la cosa di cui vai più orgoglioso di questi anni non ho capito la cosa di cui vai più orgoglioso io sono certo l'operazione moi ex moi lì era una situazione veramente molto complicata io quando sono andato la prima volta a visitare i sotterranei era una cosa veramente e lì siamo riusciti a portare una forma di rapporto ottimale persone far uscire da questo le abbiamo educate le abbiamo dato una casa i bambini li abbiamo mandati a scuola e tutto questo certamente è stato un esempio anche il ministero degli interni quando andammo con il precedente prefetto ci riconobbe questa cosa e ci dettero il capo di gabinetto era Piantedosi e il ministro era Salvini e ci dettero anche delle risorse perché dicevano questo è un modello che può funzionare che deve funzionare senti e l'ultima cosa perché poi passiamo all'ultimo blocco perché li abbiamo sporati quasi tutti però non eccessivamente devo dirti se hai un rimpianto se ti riconosci un errore e poi in tutta questa cavalcata che hai fatto della vita qual è stato il momento in cui ti sei sentito più felice? allora errori ne ho fatti tanti in un momento però ho sempre una certa attenzione rispetto al fatto che un siner che ancora non conosceva nessuno lì lì non conosceva nessuno siamo andati a Candiolo siamo stati una mattinata siamo stati dagli ammalati dai ricercatori lui è un ragazzo di un'umanità indescrivibile ed è stata veramente una di quelle cose belle che ti possono capitare solo se hai veramente le opportunità dicevo quindi io ho certamente sbagliato molte volte nella mia vita però se posso dirlo sono uno che impara dagli errori nel senso che quando faccio un errore ci rifletto e cerco di evitare di farlo di ripeterlo e quindi da questo punto di vista credo che nella mia vita sono maturato nel senso che sono certamente riuscito a fare delle cose che mai più io mi immaginavo di venire a Torino fare il Politecnico essere un bravo studente tornare a casa e vivere tutta la mia vita a Savona ecco questo era non è andata così non è andata proprio così che cos'è che è la cosa più io credo la mia famiglia e allora qua ti fermo perché ti stai commovendo e così introduciamo l'ultimo l'ultimo blocco l'ultimo blocco e qui c'è tutto il romanticismo di quest'uomo che in realtà ha scelto bussando alle porte del paradiso per parlare della sua famiglia abbiamo visto la tua foto appena nato sostanzialmente da bambino devo dirti che tua nipote è persino più bella di te l'abbiamo vista qua l'abbiamo vista qua io credo che non avrei potuto fare quello che ho fatto se non avessi trovato una persona come Anna lei viene da Alba quindi vi racconto una cosa così un po' così suo papà non aveva mai consentito né a lei né a suo fratello di viaggiare in aereo perché lui quando c'era stato l'incidente di Usuperga era alle molinette quindi era stato molto colpito da questa cosa che volassero prima di sposarsi e quindi naturalmente loro erano e noi siamo andati in viaggio di nozza in Brasile in nave e poi questo nostro girovagare perché poi noi siamo stati in Giappone abbiamo fatto molte cose sempre insieme e lui lo diceva in piemontese io non sono tanto capace a dirlo ma dice kateven un camper perché questo nostro spostarci era un po' così e quindi certamente insomma Anna è sempre stata una mia spalla forte naturalmente noi siamo molto contenti dei nostri figli abbiamo Costanza Giulio Federica poi abbiamo questa signorina che ci fa impazzire e quindi insomma credo che le persone possano anche esprimere il loro meglio se hanno questo tipo di serenità di costruzione insieme e quindi insomma io sono contento della mia vita ma sono soprattutto contento anche della mia famiglia la famiglia Profumo Francesco Profumo grazie 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 sicuramente perché gli interpreti erano eccezionali questo format funziona Quindi ci siamo raccontato, il professor Profumo si è raccontato e ci ha raccontato. Quindi grazie perché è un meraviglioso momento per la comunità di Ateneo. Quindi grazie. Il professor Profumo Rettore del Politecnico di Torino. È una raccolta di foto. Quindi... E passo adesso la parola al... Adesso un attimo la protagonista che... Lascio adesso veramente brevemente la parola al professor Tenconi, direttore del Dipartimento di Energia e al professor Bonpara, che devo dire è stato nostro compagno di tanti viaggi, anche miei personali, insieme al professor Profumo. Buonasera a tutti. Io vorrei qui rappresentare la comunità dei colleghi, più di cento, di tutti i dipartimenti che hanno rappresentato e rappresentano tutte le anime dell'Ateneo e che hanno proposto il professor Profumo per il titolo di professore merito e la comunità politecnica nel suo insieme. Il professor Profumo, abbiamo sentito, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, professore, preside, rettore, ministro, presidente del CNR, credo sia stato e sia soprattutto un uomo di grande e non comune visione, che ha saputo declinare la sua scienza e la sua conoscenza nel mondo, uscendo dagli steccati dell'Accademia per contribuire in modo assolutamente unico alla società, sempre allineando il suo background scientifico e mantenendosi interconnesso con la sua prima comunità, quella accademica. La nota caratteristica, la specificità dell'operato del professor Profumo e la non comune capacità di fare impatto e di portare visioni, portando contributi alla società con una visione molto moderna che probabilmente non lo era quando lui ha incominciato a operare nel mondo dell'università e nel mondo al suo esterno. Io credo che il grande insegnamento e l'ispirazione che il professor Profumo ci ha dato in questi anni, che ci dà ogni giorno e che continuerà a darci nel futuro, è proprio questa. E per questo noi lo ringraziamo. Allora, il titolo di professore Merito è digitalizzato, quindi non esiste come oggetto fisico, però io poi legato alla tradizione consegnerò qualcosa di materiale al professor Profumo. Però prima di fare questo, ovviamente mi associo alle parole, faccio via le parole di Ettore e di tutto quello che mi ha preceduto e vi do solo due elementi velocissimi di completamento del percorso che ha portato poi al conferimento del titolo di professore Merito. Dopo la raccolta delle cento firme di cui vi ha detto il professor Bompard, la commissione dell'Ateneo ha mandato al Dipartimento un documento di cui io vi leggo solo due righe. Mi sembra che sintetizzino perfettamente tutto quello che è emerso nel corso del pomeriggio. La commissione ritiene unanimemente che emerga con chiarezza l'alto livello del contributo dato dal professor Francesco Profumo nell'ambito delle attività di servizio dell'Ateneo, della comunità scientifica italiana e più in generale del Paese. La commissione trasmette la proposta al direttore del Dipartimento di Energia Galileo Ferrari scomparere pienamente favorevole. A valle di questo l'ultimo passaggio è stato, in realtà il penultimo passaggio è stato quello del Consiglio di Dipartimento. Dipartimento che voglio ricordare brevemente deve molto all'intuizione del professor Profumo perché il Dipartimento di Energia nasce da una sua visione che anticipò la legge Gelmini e che ci spinse, ci persuase prima con la federazione dei due dipartimenti energetica ed elettrica poi passando a un unico dipartimento che piano piano si sta consolidando, si sta amalgamando nonostante costituito da storie e da competenze diverse ma complementari. A valle di quest'ultimo passaggio le carte sono state trasmesse al Ministero ed ecco io qui appunto consegno al professor Profumo il decreto e la lettera di accompagnamento in cui il Ministro conferisce il titolo di professore emerito. Volevo naturalmente ringraziare il Rettore. per aver organizzato questa giornata in una modalità un po', lasciatemi dire, anomala, no? Forse fa parte un po' del percorso che abbiamo fatto nel corso di questi tanti anni al Politecnico dove abbiamo sempre, lasciatemi dire un po', siamo andati oltre le regole, abbiamo cercato sempre di fare un qualche cosa in più. e io penso che le persone, io oggi avrei potuto fare una lezione tradizionale, dico la verità, però ho pensato che poteva essere più interessante raccontare come si possa cambiare un'istituzione perché in realtà non è sempre necessario che ci sia una legge, è necessario che ci sia una volontà e soprattutto che ci sia un disegno. Se c'è un disegno anche con le leggi attuali si possono cambiare le cose. Io sono fermamente convinto e nella mia vita ho sempre cercato, anche con atti solo di tipo amministrativo, di avviare il nostro Paese verso una modernizzazione. certamente la cosa di cui mi sono più occupato in assoluto è il tema dell'università, della ricerca e della formazione. Grazie a tutti voi, buona serata naturalmente. Mentre continuate ad applaudire, due ringraziamenti ai bravissimi fumettisti che ci hanno accompagnato, Gian Maria e Marco di Rubra Studio e al pianoforte Alfredo Rizzo che è un nostro studente. Quindi grazie Alfredo. Permettetemi però anche di fare un ringraziamento a tutte le persone del Politecnico. Questo è un Ateneo che è capace a fare le cose, che è capace di farle nel modo migliore possibile. E questo è perché l'Ateneo ha sempre investito nelle persone. Molte delle persone che in questi giorni ho rincontrato erano con me quando io ho incominciato a fare il prestite, quindi tanti anni fa. Sono cresciute in età, sono cresciute in professionalità, ma lo spirito è sempre lo stesso. Ecco, questa è una grande comunità e io lo dico soprattutto a chi è esterno. Qui c'è un'anima e quest'anima ci tiene forti e ci tiene uniti, nonostante anche ci siano stati momenti di difficoltà, ci sanno e ci saranno. Però io credo che le scuole debbono avere anche questa cosa e lo trasmettono ai loro studenti. Un'ultima cosa poi gli smetto. Una delle cose che più mi ha fatto piacere, vi dico la verità, è l'esperienza dei nostri studenti all'interno degli organi di governo, il Senato e il Consiglio di Amministrazione. È un'esperienza meravigliosa e questi ragazzi che fanno questa esperienza poi sono i più bravi anche nel mondo del lavoro, perché imparano a confrontarsi con gli altri, a mettersi in discussione, a dire qualche volta ho sbagliato, ma credo che le scuole, oltre ad insegnare bene l'analisi, l'elettrotecnica, la fisica tecnica, debbano insegnare a diventare uomini e donne. E il Politecnico lo fa. Grazie.